Sono Anna Scani, sono il commissario dell'AUR e sono contenta oggi di presentare uno dei risultati del nostro impegno a favore dei giovani. Fin dall'inizio della vecchia programmazione noi abbiamo cercato di organizzare interventi per favorire l'occupazione giovanile, che è uno dei maggiori problemi della nostra regione. Siamo riusciti a coinvolgere oltre 650 studenti delle scuole medie superiori che hanno prodotto delle imprese virtuali, alcune di queste come Purple Plane è diventata effettivamente una reale impresa. Il secondo Creativity Camp rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni dall'idea all'impresa, anche questo accompagnamento ai giovani che avevano delle idee innovative e creative fino alla formulazione del business plan dell'idea di impresa, sempre prevedendo delle competizioni perché è molto importante la fase della competizione in cui il migliore viene premiato. E a questi davamo l'opportunità di poi confrontarsi con altre realtà e vincere dei piccoli premi per avviare la loro attività d'impresa. L'altro progetto che verrà oggi presentato è il progetto Eurodisse. Eurodisse fa parte di questo programma a cui partecipano 36 regioni d'Europa, permette ai giovani Umbri di fare un'esperienza di mobilità internazionale di sei mesi retribuita e ad oggi hanno partecipato 110 giovani Umbri che hanno fatto un'esperienza presso imprese in questi territori acquisendo competenze linguisti e abilità e adattabilità. Dalla valutazione degli esiti occupazionali di questi giorni l'80% ha trovato un impiego, un impiego anche ben retribuito perché sono queste le competenze che vengono richieste dalle imprese. Ultimo progetto molto importante è Brainback Umbria per come contrastare la fuga dei cervelli. Si parla sempre di questa fuga dei cervelli cioè di giovani Umbri che non trovano opportunità occupazionali adeguate nel nostro territorio. Noi grazie a questo progetto abbiamo cercato di farli rientrare nel nostro territorio, sono nate 16 nuove imprese, alcune molto innovative. Ieri è stata premiata fra le migliori 16 nuove imprese una nostra start-up Umbria Kinetics e siamo molto orgogliosi di questi risultati. Oggi oltre a presentare i risultati della precedente periodo di programmazione presenteremo le nuove opportunità. Una nell'ambito continuiamo l'attività di Eurodisseti riusciti in mobilità trasnazionale e partiamo anche con due misure di garanzia giovani. Una è come si accede a garanzia giovani, i requisiti dei 15 ai 29 anni e non lavorare e non perseguire formazione e non essere in un percorso di formazione e di istruzione. L'AUR gestisce attualmente due misure, una volta i tirocini extraterritoriali, anche in questo caso diamo l'opportunità ai nostri giovani di fare un'esperienza all'estero e la seconda Creativity Camp per chi sceglie la misura dell'autoimprenditorialità per imprese particolarmente innovative e creative. Noi siamo i ragazzi della Powerpoint Production e siamo un'azienda nata da poco, una start-up di impresa che si occupa di prodotti multimediali. La nostra idea di impresa è nata tre anni fa durante il progetto Scuola d'Impresa promosso dall'AUR che ci ha dato la possibilità di strutturare un'azienda a livello virtuale, una simulazione di impresa, che però finito il progetto che siamo riusciti anche a vincere ci è piaciuta e abbiamo deciso di continuare e metterci in gioco. Adesso nel progetto siamo nati come una start-up di proiezioni multimediali per scopi comunicativi sociali. Nella realtà l'abbiamo adattata al contesto economico e adesso facciamo comunicazione multimediale e pubblicità per aziende come la nostra o aziende comunque affermate nel territorio.